Per prendere il Chica Black, Trastly Vieira è l'inaugural MotoGP eSport World Champion del 2017 Sono arrivato alle 8.40 più o meno in aeroporto, mi sono incontrato subito con il team eSport In pista sono i miei peggiosi rivali, poi fuori dalla pista sono i miei migliori amici Quindi c'è questo contrasto che è bellissimo ed è anche giusto Io mi piace di averlo perché siamo amici E sempre c'è il ricordo di Trastevere che fa un po' di rabbia, ma ma che nada siamo amici Buongiorno Buongiorno Benvenuti a Salzburg Grazie A prima vista mi è sembrato enorme, ma mi apprezzandova tanto dal principio l'altro 8 ore L'esagerazione, tutto di più, tutto esagerato, bellissimo Questi elicottero Con il rilevo Mi sono pronti a fare Lo stava… Siuntiamo per amici Alcina Ci sono inizialmente Ci sono inizialmente Con il rilevo La rilevo Adesso Abbiamo Abbiamo Un rilevo Abbiamo I drive the helicopter, yes. When he was driving I was very afraid. Thanks for this experience Red Bull. Goodbye. Goodbye.